Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Pesaro ha scoperto una maxi-evasione di IVA da oltre 6 milioni di euro, operata da un'azienda nel settore della cantieristica navale per la costruzione di imbarcazioni di lusso e denunciato il legale rappresentante della società per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La maxi-evasione è stata scoperta dalle fiamme gialle a seguito di una verifica fiscale fatta nell'azienda nel quadro di una più articolata e complessa attività ispettiva indirizzata alla repressione di illeciti di natura tributaria. Le anomalie rilevate dalle banche dati in uso al corpo hanno portato i finanzieri sulla strada giusta e ad investigare sull'azienda. Da queste è emerso come la società attraverso un giro di fatture emesse nei confronti di società estere collegate e compiacenti, avesse indebitamente acquisito la qualifica di esportatore abituale indispensabile per effettuare acquisti presso fornitori nazionali senza il pagamento dell'IVA. Le fiamme gialle, stimolate anche dalle informazioni reperite sul web e sulla stampa specializzata, sono riuscite ad associare il marchio a società di diritto austriaco e monegasco delineando i tratti di un'unica organizzazione aziendale, composta però da tre divisioni operative gestite da società differenti, dislocate in Italia, Austria e Principato di Monaco. Anche le autorità dei due stati esteri interpellate dalla Guardia di Finanza hanno confermato le ipotesi avanzate dai finanzieri. Una volta completato così il quadro della maxitruffa e degli esiti dell'indagine, il legale rappresentante della società è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria.